Cos'è successo? Dimmi se stai bene. Hai urtato l'ala anteriore. Non c'è nulla, non c'è nulla. 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 Non c'è nulla. Ehi, tutto ok? Rimani calmo, gli steward stanno arrivando. Ci stiamo avvicini. Il sistema di riduzione... Stai bene? Spegni il motore. Hai appena portato a casa il miglior tempo. No, virgola 7 secondi. Stai bene? Spegni il motore, spegni il motore. No, virgola 7 secondi. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Grazie a tutti.